Totem ceramiche, da 25 anni, non è un modo di dire. Totem ceramiche, lo spazio che abito. Bentrovati con la nostra informazione, vediamo subito i titoli di oggi. Confermato l'allontanamento dei bambini dopo presunte violenze, la madre si difende. Degrado in vico spirito santo, i residenti chiedono interventi per la situazione diventata ormai insostenibile. Pagarono per la Corte dei Conti e ora chiedono soldi al Comune. Ex consiglieri comunali hanno presentato ricorso alla Corte dei Conti. I Mendola gettano la spugna, senza stadio non si può fare calcio. I fratelli Mendola hanno deciso di lasciare il gelacalcio. Tante promesse ma nulla di concreto, dichiarano i tre fratelli imprenditori attraverso una nota stampa. Sport e disabilità, i nuovi progetti dell'Orizzonte. Il binomio sport e disabilità diventa una realtà sempre più consolidata. E questo anche grazie a iniziative al lavoro dell'Associazione Orizzonte. Il futsal Gela si ferma ancora. Seconda sconfitta consecutiva, il quintetto Biancorosso perde in casa contro il Piazza Armerina, scivolando al penultimo posto in classifica. Ben trovati con il nostro telegiornale. Abbiamo visto i titoli. La donna accusata di aver ferito i due piccoli figli si è presentata davanti al giudice delle indagini preliminari. Il provvedimento di allontanamento è stato confermato, ma lei ha negato di aver mai picchiato i figli. Il servizio di Rosario Cauchi. Non ho mai picchiato i miei figli. La donna che negli scorsi giorni ha ricevuto un provvedimento di allontanamento dopo presunte violenze sui due piccoli bambini si è presentata dal GIP del Tribunale si è difesa. Rappresentata dall'avvocato Joseph Donegani, ha spiegato quanto accaduto venerdì scorso respingendo le accuse. Il provvedimento però è stato convalidato e la difesa lo impugnerà al riesame, ritenendo che non ci siano le condizioni per giustificare l'allontanamento della madre dai due piccoli. In base al racconto reso dalla donna, ci sarebbe stata una lite con il marito. I due sarebbero in fase di separazione. Proprio l'uomo, dopo qualche minuto, avrebbe contattato la polizia. I bambini erano in casa e nel tentativo di farli calmare avrebbe accidentalmente graffiato al volto uno di loro. Il difensore ha sottolineato come i due piccoli non avessero alcuna ferita grave. È stato ribadito che la mamma, anche in passato, non ha mai picchiato i figli. Il GIP Tiziana Landoni però ha confermato il provvedimento e per ora la donna non potrà avvicinarsi ai bambini. Altra situazione di degrado in Vico Spirito Santo, una stradina a pochi passi dalla Chiesa Madre. Una situazione invivibile per i residenti che si trovano in balia di imbrattamenti, odore di marijuana, spazzatura e puzza di escrementi. Vediamo il servizio. Altro caso di degrado segnalato alla nostra redazione da parte di alcuni cittadini. Una situazione invivibile per i residenti di Vico Santo Spirito, una stradina a pochi passi dalla Chiesa Madre. Dopo alcune segnalazioni e dopo aver fatto installare un sistema di videosorveglianza, i residenti sono stancati che puntualmente ogni sera si alternano piccoli gruppetti di giovani lasciando muri imbrattati, spazzatura e puzza di escrementi. Praticamente la situazione si verifica tutti i giorni. Nonostante il mio impegno nel pulire e ripulire quella zona lì, ogni giorno si presentano dei ragazzi che non so da dove vengono e dalle foto che vedrete o i video vi accorgerete del degrado che c'è in quel posto. Ci sono cicche di sigarette, ci sono lazzine, ci sono tubi rotti, ci sono delle ringhiere rotte, c'è di tutto e di più. Ci sentiamo scoraggiati perché non c'è nessuno che ci viene a dare una mano lì. C'è anche una famiglia dove ci sono dei ragazzini che hanno paura pure di rientrare a casa perché si ritrovano dei ragazzi che neanche conoscono. Quindi è una situazione molto preoccupante. Facciamo appello soprattutto alle istituzioni che ci diano una mano in questa situazione. Non sappiamo più cosa fare. La situazione facendo una piccola passeggiata per le zone incriminate è in effetti abbastanza paradossale. Ad appena pochi passi dalla piazza principale della città si trovano queste strade dove è inconfontibile la puzza di spazzatura e di incerti angoli. Persino la puzza di qualcuno che ha deciso di scambiare la zona per un orinatoio pubblico. E continuano le cattive abitudini durante la movida gelese del fine settimana che genera proteste tra i residenti di piazza Sant'Agostino. Per l'ennesima volta anche sui social network spuntano le immagini di quanto lasciato in strada dopo le notti del weekend. Bottiglie di vetro, plastica ovunque e vicoli ridotti a orinatoi notturni. Diversi residenti in più occasioni hanno messo a disposizione le immagini dei sistemi di sorveglianza che immortalano le gesta di giovani pochi inclini alle buone maniere. Anche per questo motivo hanno chiesto un rafforzamento dei controlli. Davanti alla totale assenza di coscienza civica però tutto diventa molto più difficile. Gli ex consiglieri comunali, dirigenti dell'ente e allora assessori dell'Aggiunta Fasulo pagarono sanzioni fino a 8.000 euro davanti alle contestazioni mosse dalla Corte dei Conti. Accuse che però caddero e adesso i soldi li chiedono proprio al Comune. Hanno presentato un ricorso alla Corte dei Conti. Vediamo. Ci sono ex consiglieri comunali, componenti dell'allora Aggiunta Fasulo e attuali dirigenti comunali hanno deciso di andare avanti nella loro azione giudiziaria rivolgendosi alla Corte dei Conti regionale per ottenere la restituzione delle somme pagate alcuni anni fa quando i magistrati contabili iniziarono la verifica sulle presunte irregolarità nelle procedure di approvazione di debiti fuori bilancio e conti consuntivi. Molti decisero di pagare la sanzione prevista anche fino a 8.000 euro senza andare incontro al giudizio. Gli unici che arrivarono davanti ai magistrati furono l'ex consigliere comunale Terenziano Di Stefano e l'allora assessore Marina Laboria. I giudici contabili gli diedero ragione facendo cadere tutte le accuse. Un doppio verdetto favorevole sia in primo che in secondo grado che adesso è la base sulla quale poggia l'azione avviata da chi invece decise di pagare e chiede di essere risarcito. Diversi mesi fa il segretario generale del Comune e l'allora sindaco Domenico Messinese con una nota scritta dissero no alla restituzione delle somme che intanto era stata richiesta proprio dagli ex consiglieri che adesso si sono rivolti alla Corte dei Conti e anche il Comune si costituirà come ha deciso il commissario Rosario Arena. I fratelli Mendola hanno deciso di lasciare il gelacalcio a causa e soprattutto della situazione stadio ad oggi non fruibile dal pubblico a condizione che reca alla società un danno economico non indifferente. Tante promesse ma nulla di concreto, dichiarano i tre fratelli imprenditori attraverso una nota stampa. Vediamo. I Mendola gettano la spugna, non ce la fanno più a sopportare una squadra senza uno stadio. Hanno investito e tanto e dopo oltre otto mesi non hanno alcuna data, alcuna certezza sulla riapertura dello stadio Presti. Sono stati in silenzio ed hanno incassato tante amarezze, ma dopo tanti incontri e le mancate rassicurazioni, stasera sono uscite allo scoperto. Nella tarda serata di ieri i patron della società calcistica, attraverso una nota stampa, hanno annunciato il loro disimpegno. Non sempre i sogni si realizzano, ma non si deve mai rimanere da soli a sognare. Questa dirigenza, scrivono e Mendola, dal 2016 investono nel calcio e nel territorio di Gela senza che il territorio abbia dato qualcosa o sostenuto le nostre imprese. Ma solo per la gelesità che ci ha sempre contraddistinti e il vanto di essere cittadini di questa città. Oggi ci rendiamo conto che siamo soli. Siamo soli a sostenere un progetto calcistico di grande ambizione. La squadra e il suo allenatore ne sono testimonianza, ma sembra quasi che solo noi vogliamo portare avanti questo progetto. Quasi che non fosse un progetto della città di Gela. A determinare la scelta della proprietà biancazzurra, la situazione è stadio. Da febbraio 2018 lo stadio è chiuso e quindi non è accessibile al pubblico, creando problemi non indifferenti alla società. A fronte di questi problemi abbiamo avuto solo proclami da parte dell'amministrazione, che si era impegnata a riaprire la struttura sportiva entro il mese di agosto, ma così non è stato. Purtroppo siamo stati ingannati da tutti, compresa la politica, illusi che questo sogno poteva essere condiviso dalla città e a cui non abbiamo chiesto assolutamente nulla se non di sognare con noi. A questo punto ci siamo svegliati e ci siamo resi conto che lo stadio è chiuso e la situazione politica e amministrativa venutasi a creare non lascia assolutamente dubbi sul fatto che lo stadio non si aprirà in tempi brevi. Anche i tempi di un eventuale interessamento da parte della regione non sono quelli auspicati per rilanciare la squadra di calcio. I fratelli Mendola, delusi dalle false promesse, sono determinati a chiudere definitivamente con il calcio. Ci siamo svegliati da questo sogno e ci siamo accorti che purtroppo nel territorio non si può fare calcio perché è mancato quell'appoggio su ogni fronte che avrebbe consentito di alimentare quell'entusiasmo che oggi non c'è più. Questa città ha fatto morire il calcio e le colpe non sono di questa dirigenza né delle proprietà ma della città di Gela che non è riuscita ad avere un moto di orgoglio per salvare queste compagine sportive e con esse il nome di Gela. Per questi motivi gettiamo definitivamente la spugna, liberiamo giocatori e staff ringraziandoli per quanto hanno fatto. Ringraziamo quelli che ad oggi ci hanno sostenuto e ci hanno supportato e rimettiamo la squadra nelle mani di chi vuole continuare avendo sempre il nostro sostegno. L'associazione Codici ritiene nulla la gradatoria dei test di medicina e odontoiatria. Sarà l'avvocato Angelo Caffà a rappresentare gli studenti che intendono ricorrere per l'annullamento della gradatoria nazionale relativa ai test di ammissione alla facoltà di medicina e odontoiatria. L'associazione a tutela dei diritti dei consumatori rappresentata dal delegato Salvo Camiolo e da Angelo Caffà ha attivato uno sportello che si occuperà dei relativi ricorsi. L'associazione ritiene di aver riscontrato diverse illegittimità che di fatto rendono irregolare la gradatoria nazionale di merito. L'associazione guidata in Sicilia dall'avvocato Manfredi Zammataro si avvale dell'assistenza dei propri consulenti e legali specializzati diffusi in tutto il territorio nazionale. Lo sportello è attivo in via Impedocle 85. Tanti istituti scolastici della città devono fare conti con la carenza di spazi e soprattutto di aule. Tra queste scuole c'è anche la San Francesco, un problema di non facile soluzione, soprattutto davanti a quanto sta accadendo con la nuova Pirandello. Se mancano spazi per gli alunni però c'è chi propone di usare immobili di proprietà del comune, evitando di pagare affitti. Negli ultimi giorni ho appreso di queste difficoltà, dice il consigliere comunale uscente Carmelo Casano. Credo che la soluzione più facile sia quella di mettere a disposizione dell'istituto scolastico gli spazi dell'ex monastero delle Benedettine, che prima della sfiducia all'ex giunta ha concesso in affitto a due enti di formazione. Peraltro si eviterebbe il pagamento degli affitti. Casano lancia la proposta anche al commissario Rosario Arena, che si è da poco insediato in municipio. In questo periodo anche per trovare spazi doni per gli alunni non appare un'impresa da poco. Il binomio sport-disabilità è ormai in città una realtà sempre più consolidata e questo grazie a iniziative e al lavoro dell'associazione Orizzonte. Anche quest'anno la realtà locale, guidata da Natale e Salucci, ha organizzato tante iniziative. Vediamo. Il binomio sport-disabilità è ormai in città una realtà sempre più consolidate e questo grazie anche ad associazioni come l'Orizzonte, che da anni lavora per l'inserimento sociale delle persone diversamente abili. Da anni l'associazione preseduta da Natale e Salucci organizza tante iniziative ed anche quest'anno ci sono molte novità. Ora abbiamo un incontro a livello nazionale per programmare la stagione. Poi il giorno 22 abbiamo il primo corso di primo livello in Sicilia che si fa di Beddington per preparare istruttore e diffondere lo sport di Beddington nel nostro territorio. Poi ci saranno i giochi di basket del centro-sud, quindi andremo a Roma per fare il preliminare e poi a gennaio abbiamo i giochi invernali di Giaspole e Esci di Fondo che abbiamo iniziato ad allenarci in spiaggia e quindi questi sono gli impegni prossimi che abbiamo. Poi ci sarà la stagione estiva con i giochi nazionali di atletica, nuoto, basket, calcio e così via. Sport per tutti è un'idea di non difficile concezione ma di complicata attuazione. Infatti sono tante le difficoltà che affronta l'associazione locale soprattutto a livello economico senza dimenticare la mancanza di strutture edonee. Ci stiamo allenando in spiaggia sia per le Giaspole che come preparazione atletica. Inizieremo l'attività sperando che il Palaccio Siga si attivi al meglio per continuare l'attività di basket proprio per i prossimi impegni che abbiamo a novembre di basket e poi cercheremo di utilizzare qualche struttura per accogliere le varie iniziative. In centro storico è ormai un'impresa cercare di passeggiare o semplicemente muoversi a piedi, vetture parcheggiate anche in doppia fila e nessuna zona a traffico limitato nella fascia oraria di punta. Una situazione che va avanti da mesi. Credo che il commissario Rosario Arena debba prendere provvedimenti, dice Carmelo Casano. Il centro storico negli orari di punta pomeridiani e seriali è off-limits sia per i pedoni che solo per chi volesse passeggiare liberamente. Tutto questo mentre il parcheggio Arena è chiuso, così come il gemello di Capo Soprano, praticamente a tempo indeterminato. Passiamo allo sport. Continua il periodo negativo dei risultati del Futsal Gela. Il Quintetto Biancorosso perde in casa con Piazza Armerina, scivolando al penultimo posto in classifica. Il servizio di Giuseppe Fiorelli. Altra sconfitta in casa del Futsal Gela. Il Quintetto Biancorosso, dopo il risultato negativo contro Città di Sortino, non riesce ad uscire dal vortice delle sconfitte. Infatti, nella terza giornata di campionato di Serie C1 di calcio a 5, i gelesi perdono tra le muramiche contro Piazza Armerina per 2-4. Nei primi otto minuti di gioco la squadra di Mister La Rosa subisce tre reti. I Biancorossi cercano di reagire accorciando le distanze, prima con Invorna e successivamente con Morteo, chiudendo la prima frazione di gioco sul risultato di 2-3. Nella ripresa, il Quintetto locale si avvicina più volte al pareggio, ma la difesa piazzese copre bene gli spazi. Nei minuti finali, la formazione avversaria realizza la quarta rete, mettendo definitivamente in ginocchio i padroni di casa. Una sconfitta che fa scivolare i Biancorossi al penultimo posto in classifica. Quota 3 punti. Questo era l'ultimo servizio. Per ogni approfondimento vi rimandiamo al quotidiano di Gela.it. Grazie per averci seguito e arrivederci. Grazie.